Fino di anno tempo di bilanci anche in politica, anche se sono solo sei mesi della nuova amministrazione, però si comincia già ad avere un minimo di chiarezza insomma. Sì, direi di sì, la faccio con una battuta. In democrazia normalmente c'è chi amministra e c'è chi fa opposizione, anche per rispondere agli annunci degli ultimi giorni. Io sono convinto che all'amministrazione aspetta a governare. Ad oggi, secondo me, abbiamo visto in sei mesi una politica di soli annunci. Noi invece continuiamo sul nostro percorso di una posizione costruttiva. Credo che la democrazia ci voglia anche questo per tenere il punto e per riuscire a dare degli stimoli nuovi. Per questo chiediamo anche agli amici di Omegna Si Cambia di darci una mano in questo, anche in futuro. E su questo vorrei dare tre indicazioni di nota. Uno, come dicevo, è l'amministrazione che stiamo ancora aspettando al barco, perché crediamo che abbia fatto ad oggi solo politiche di annunci e stiano anche vivendo un po' di rendita rispetto alle iniziative fatte dalla passata amministrazione. Dopodiché abbiamo anche alcuni aspetti legati ad esempio all'iniziativa che vogliono intraprendere i nostri amici di Omegna Si Cambia, su quale volevo dare due indicazioni. Uno, ad esempio, è lo streaming in consiglio comunale, dove noi non siamo contrari, anzi siamo a favore, anche se vogliamo avere idee chiare sui costi. E non possiamo dimenticare, ad esempio, che una città come Verbania, che ha il doppio degli abitanti dei nostri, mediamente mi risulta che abbiano non più di cinque collegati a consiglio comunale. Quindi questo è un dato che dobbiamo prendere in considerazione. Su temi quali la sanità, tanto per fare un esempio concreto, sembra che le posizioni sono molto lontane, insomma. Sì, in realtà ho letto che noi ci attaccano del fatto che non aver appoggiato l'ordine del giorno comunitario per Quisquiglie. In realtà c'è una posizione ben chiara, che è la nostra, che è quella di dire sì a salvaguardare i servizi ad Omegna, ma crediamo che il metodo per farlo sia completamente diverso da quello che è stato detto in consiglio comunale dalla maggioranza. E cioè, noi siamo convinti che per tutelare tutti i servizi che oggi abbiamo a Omegna, anche in futuro, bisogna appoggiare con forza il progetto regionale che il PD ha portato avanti assieme al suo vicepresidente Reschigna, che è quello dell'ospedale unico del potenziamento della medicina territoriale.